buongiorno buongiorno dove stiamo andando di nuovo minucciano però stavolta con la neve si va a vedere la neve a questo giro bene bene siamo partiti ieri sera siamo andati a castelnuovo a dormire perché la strada dopo scena era già bella ghiacciatina sicché non ci siamo fidati andare troppo avanti e ora che ore sono le 8 le 9 e niente si va si va su ci dovrebbe raggiungere simone abbiamo già prenotato anche il rifugio d'onegani così oggi si mangia lì e niente dopo vedremo dopo aggiungeremo altri video i bimbi sono sul camp e noi siamo qui al parcheggio il parcheggio è un attimino innevato non ci si riesce neanche andare ora si fa un volo col drone qua e poi si va qua sopra almeno c'è un po di sole si sta meglio no io sono quando nel diritto ah 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 stoncio il ciò che svegli ronca ah 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 all thelights ah 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 the all people fade away me you can to hear me now ah 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 si torna ora dal rifugio donegani sono stati bene loro hanno fatto il loro dovere e abbiamo fatto una bella mangiata abbiamo ci siamo divertiti dai stato cinghiale cinghiale in cinghiale e patate ora si va giù al lago di gramolazzo il sole sta già tramontando sono le 4 e 20 4 e 20 già è buio quasi e niente ora ci si mette la belli tranquilli guarda un po i video come sono venuti via e domani mattina si vola sul lago bene si vola sul lago si farà anche la passeggiatina buongiorno buongiorno stamani ci siamo svegliati al freddo al gelo non è vero quasi la batteria è andata bassissima e non andava più la truma non ce la faceva accendere a rimanere accesa si accendeva ma non ce la faceva rimanere accesa e quindi niente ora abbiamo acceso 10 minuti il furgone abbiamo fatto scaldare la truma così ciao e ora l'abbiamo rispinta però bisogna stare attenti va tenuto in considerazione diciamo che ieri è stata tutto il giorno accesa la stufa siamo stati sua minuccia rifugio donegani e non c'era lui non c'era luce non c'era sole non ha ricaricato nulla il pannello e quindi poi si è scaricato non si è fatto strada si è fatto strada si sarà fatto 10 chilometri no neanche sono cinque chilometri da qui a là sicché zero e si è scaricata la batteria praticamente vabbè si è imparato per le prossime volte ora siamo qui al lago di gramolazzo si stava aspettando che salisse sul sole per fare un po di video di foto e ancora presto sono le otto un quarto ancora non è venuto su si vede sui monti ma ma qui no arriverà eccoci seconda registrazione perché avevamo sbagliato strada allora siamo venuti via dal lago di gramolazzo abbiamo fatto una volatina col drone due foto eccetera eccetera però il lago non è bellissimo perché l'hanno svuotato d'inverno ci dicevano che lo svuotano e quindi sì bello però non come quando è bello pieno che insomma da un altro effetto visivo e ora niente piano piano si torna verso casa si passa dal castelnuovo insomma si fa una giratina così e poi piano piano ci si avvia verso casa che ci vuole quasi un paio d'ore praticamente ci vogliano tutto vabbè promemoria attenzione quando si fa a montagna perché la batteria non ce la fa se non c'è il non ci si fa a montagna perché la batteria non ci si fa a montagna perché la batteria non ci si fa a montagna niente piano ci si fa a montagna perché non ci si fa a montagna perché la batteria non ci ci sia ma